ciao claudia tesoro benvenuta scusami che figura non abbiamo la proviamo problemi con la luce di corrente vieni vieni qua dammi la mano ti guido io siediti qua adesso prova accendere la corrente scusano la scusa ancora è tanti auguri a te anche a te lì cara claudia adesso ti facciamo vedere una cosa guarda che cosa che abbiamo preparato solo per te tanti auguri claudia vuoi soffrire la candelina la soffiamo noi a posto tuo 1 2 al primo desiderio 1 2 facciamo vedere questa bella torta che ti abbiamo preparato adesso l'avrei voluto tanto fare fare un video di come si chiede del tutorial di come ti faceva questa torta ma avevo davvero davvero troppe cose da fare e allora mi sono limitato a scendermi la parte di registrare ed editare scusate nido che è bellissimo perché di registrare ed editare mentre ti faccio vedere semplicemente la torta che ti ho preparato è una torta che ti rappresenta perché dolce come te abbiamo messo delle scagliette rosa perché mi sono persona dolce abbiamo messo le scaglie di cioccolato perché tu sei comunque capricciosa e sfiziosa e abbiamo verso una crema scendelli che secondo me ti piacerebbe tanto la panna montata è una decorazione così perché tanti auguri claudia per i tuoi 34 anni sappiamo giustamente che non è detto la tua età giusta lo dico perché sono quelli che tu realmente dimostri a tutti noi ogni giorno quindi questa torta è perché assaggiare un morso anni spero che ti piaccia e noi sinceramente basta di presi facciare l'amore tutta la famiglia ti auguriamo tanti auguri pure danilo tanti auguri una splendida giornata e altri cento di questi giorni ciao ciao